qui siamo a bocca 7 valle chiusa dietro le spalle ho valle ripiego in sottofondo richiami elettroacustici ecco questo è proprio qua davanti abbiamo appena telefonato al numero verde provinciale mi hanno detto che manderanno una pattuglia quelli che si sentono in sottofondo ovviamente non sono animali ma sono tutti richiami